Io voglio ringraziare invece questa iniziativa perché ci consente di utilizzare in contotendenza un'arte, quella teatrale, che io credo abbia il livello più alto di persuasione perché nell'era virtuale non c'è niente come il respiro, lo sguardo, il corpo, il corpo per comunicare, per emozionare, per convincere, quindi io sono una sostenitrice da sempre del teatro, ho visto Beach Drinking alla prima a Milano, trovo che se un po' di più, non dico meno Leopardi più teatro perché non sarebbe neanche giusto, però se utilizzassimo questi linguaggi per convincere della bellezza della cultura e per convincere dell'importanza dell'autonomia di sé, io credo che la scuola italiana farebbe grandi passi in avanti. Noi siamo legati a linguaggi molto antichi che ormai sono davvero obsoleti, lo dico paradossalmente ma è così, io credo che la rete che è utilizzatissima sia però, come posso dire, sempre meno di comunicazione.